per gustare capire suonare collezionare amare il jazz oggi c'è jazz jazz gli uomini gli strumenti gli stili in una collezione di 96 fascicoli e cassette di alta qualità jazz una raccolta completa una guida per capire questa musica e un concorso con fantastici premio jazz in edicola ogni settimana fabbri editori